Carissimi amici, buongiorno, una nuova puntata, un nuovo dialogo, la scoperta dei protagonisti dell'ottica. Sapete, ormai se ci avete già seguito, che ogni mese noi raccontiamo, dedichiamo la copertina della nostra rivista a una storia di imprenditoria. Sono tantissime le storie che abbiamo raccontato fino ad oggi, devo dire tutte molto interessanti. Caso vuole, fino ad oggi, tutte le interviste che abbiamo fatto erano a imprenditori che in un certo qual modo debuttavano al loro esordio nel mondo del lavoro, nel settore dell'ottica, senza avere alle spalle nessuna esperienza, nemmeno a livello familiare. Invece oggi a Casa Platform racconteremo una storia diversa, ma in realtà più comune di quello che immaginiamo, perché spesso gli imprenditori dell'ottica operano nel settore da generazioni, iniziano i padri o addirittura i nonni, ed è proprio il caso di oggi. Oggi siamo con Alessandro Casoni, che è terza generazione di Ottica Casone di Modena, a cui do il benvenuto. Grazie, grazie dell'invito. Grazie a te di essere qua e che ci racconterà un po' la storia familiare, perché è interessante vedere come questo settore esprime un valore anche proprio nella memoria, no? È un mestiere antico, ultra tecnologico oggi, anzi super tecnologico, perché in realtà la loro realtà professionale ci è stata segnalata da un'azienda nostra partner, che è la May System, che fa altissima tecnologia a servizio delle lavorazioni, proprio dei laboratori di ottica, però, devo dire, è anche un mestiere di tradizione, di storia, di storia lunga. Infatti la storia di Ottica Casoni nasce col nonno. Alessandro, ti faccio raccontare un po' il percorso, perché è utile per far capire veramente la strada che c'è dietro, il lavoro che c'è dietro a quello che un normale cliente può vedere semplicemente a livello di negozio? Certo. Guarda, la nostra attività, il negozio parte negli anni 30, da due cugine che aprono questa attività e poi viene rilevato da mio nonno negli anni 50. Quindi il nonno, la nonna, tutti e due ottici, il papà negli anni 70, con mia mamma e adesso io e mio fratello. Diciamo che noi siamo per di più cresciuti in negozio, cioè fin da bambini, per un motivo o per un altro, abbiamo iniziato a vivere in negozio fin da subito. E questo ci ha fin dall'inizio subito affascinato per com'era il lavoro, per com'è il lavoro che va dal laboratorio alla prova degli occhiali, alla scelta dell'occhiale giusto, alla misurazione della vista. E questo è venuto naturale in noi proseguire questa tradizione che è partita dal nonno e proseguita col papà. Beh, però non è così scontato, no? Nel senso che, allora, voglio fare una precisazione, ho conosciuto moltissimi ottici che hanno, diciamo, intrapreso questa professione proprio perché comunque c'era un negozio di famiglia, c'era una tradizione. Però è anche vero che a volte c'è anche la reazione, no? Cioè, nel senso che è un lavoro molto faticoso, molto impegnativo, che ti assorbe moltissimo tempo, quindi magari a volte ci possono essere un po' degli anticorpi che ti portano a dire, ma aspetta un attimo, invece due su due, cioè due figli. No, no, diciamo che il merito va molto al papà che comunque ci ha lasciato molto liberi di decidere cosa fare, insomma, come lavoro nella nostra vita e questo ha portato a questo percorso naturale che dall'ammirazione che avevamo da bimbi verso il papà, il lavoro che faceva, a noi aspirare a diventare ottici e a risolvere i problemi delle persone attraverso la consulenza, a fare gli occhiali e quindi questo, diciamo, è venuto proprio di conseguenza, naturalmente. Bene, allora tu mi dicevi, voi avete il punto vendita principale che è Amogena, che è quello storico, quello che c'è da sempre. Poi ne avete anche un altro piccolino. Amontefiorino, che è il nostro appennino, che è il paese, diciamo, nostro di origine familiare, i nostri nonni, dove abbiamo cresciuto, siamo cresciuti anche noi nella nostra infanzia e, diciamo, è il negozio dove va mio papà, mio fratello, io tendenzialmente sono più nella base a Modena. Ok, però voi siete ancora tutti e tre nel negozio, cioè c'è il babbo che fa da amministratore, il boss, quindi papà, papà, di ottica, caso non ti preoccupare, il boss sei tu, però ci sono questi due ragazzi, tu sei il più giovane, hai 34 anni, poi c'è tuo fratello anche un po' più grande e t'ho chiesto, prima di iniziare questa chiacchierata, ma come vi siete divisi i compiti? Perché immagino che la coesistenza, come in tutte le famiglie, ci siano alti e bassi. Diciamo che in tutti gli ambienti familiari, cioè nelle aziende familiari, ci sono sempre degli equilibri che non sono sempre semplici da gestire. Devo dire che noi, almeno, siamo fortunati perché comunque abbiamo dei caratteri diversi e quindi io faccio delle cose che amo fare e che mio fratello non vuole fare e viceversa, lui fa delle cose che io non farei mai. Quindi ci occupiamo uno di una cosa e uno di un'altra. Il papà è il grande supervisore di tutto questo, insomma. Devo dargli veramente merito nella sua, diciamo, intelligenza, nel senso che ci ha dato responsabilità, fin da subito, di poter fare le nostre scelte e di poter, diciamo, esprimere al meglio la nostra forza che possiamo avere, essendo giovani, essendo volenterosi di poter fare, di crescere, di evolvere, insomma. Beh, questo è molto bello, è il segreto per dare continuità. Credo che il tuo babbo, in realtà, anche se magari non ve lo dice, sia molto, molto felice di questa scelta, però non è scontato che quando appunto c'è la compresenza nella realtà professionale di due generazioni, quella primaria ceda facilmente le eredini. Però in questo caso è un caso felice e ovviamente non può che far bene al vostro lavoro. Allora, voi siete ottici indipendenti, quindi avete una vostra indipendenza da sempre e ci sono tre aspetti, secondo me, molto interessanti sui quali vorrei soffermarmi. Allora, la prima di tutto è il fatto che tu mi hai raccontato che voi date molta importanza al laboratorio, cioè voi avete un'attrezzatura all'interno del punto vendita che il pubblico non vede, purtroppo, perché invece darebbe... Io ti suggerisco, dovete... A volte prendo il cliente e lo... vieni con me che ti faccio vedere. A volte, diciamo, nel nostro lavoro si tende a un laboratorio tenere un po' nascosto, nelle elettrovie è una cosa in secondo piano. In realtà, a volte far capire cosa c'è dietro la costruzione di un occhiale dà valore e dà valore a quello che poi viene realizzato e quindi ha la precisione e lo studio che c'è nell'approntare un occhiale, che non è proprio banale. No, infatti, perché dal momento che ovviamente il mercato è molto, molto competitivo, lo è sempre di più. Certamente. Si affacciano anche catene, ci sono anche situazioni dove magari si attira l'attenzione con politiche di vendita molto aggressive, piuttosto che il fatto di avere un laboratorio oltre ad essere un investimento è però anche un po' una dichiarazione di intenti, no? In questo senso c'è la volontà di seguire ogni aspetto della lavorazione fino ad arrivare al prodotto finito in modo praticamente autonomo, quindi facendo corsi, perché poi la strumentazione e la tecnologia... Non è banale anche sapere utilizzare i software, nel senso che il macchinario ci aiuta, però ci accompagna nella realizzazione, quindi bisogna informarsi, sapere utilizzare il macchinario perché non ha un'intelligenza ancora per il momento così artificiale da poter decidere lui quello che è giusto o meno, quindi deve essere l'operatore dietro che sappia impostare il macchinario nel modo giusto. E quindi tu mi dicevi in realtà questa è la parte che mi piace di più del mio lavoro. Sì, diciamo che questa anche la realizzazione proprio in toto dell'occhiale in sé, anche la consegna dell'occhiale mi dà molta soddisfazione perché questo fin da bambino è la prima cosa che mi ha colpito diciamo del nostro lavoro, la consegna dell'occhiale, quando si va a consegnare l'occhiale che il nostro cliente indossa l'occhiale e dice ci vedo, ci vedo, si vede bello, ci vedo bene o finalmente. E in molti casi non è solo un, diciamo alcuni casi è anche un discorso d'immagine, ma molto spesso è anche proprio andare a risolvere un problema che è anche debilitante per le persone, quindi questo dà una sfumatura al nostro lavoro non solo diciamo quello che può essere, come diciamo prima, il laboratorio, che c'è la manualità nel costruire un oggetto, ma anche un fine diverso insomma. Assolutamente. L'altro aspetto molto interessante che secondo me vale la pena raccontare perché queste chiacchierate in realtà hanno un po' l'ambizione di essere delle testimonianze anche per chi si affaccia a questo mondo che è giovane come te o poco più giovane che magari ha bisogno di punti di orientamento, ma anche altri professionisti già avviati che semplicemente magari sono un po' meno proattivi e non riescono ad affrontare al meglio appunto un mercato che è veramente molto complesso oggi, molto competitivo, ma anche proprio molto complesso anche nei rapporti con il consumatore che è completamente diverso anche soltanto a quello che era dieci anni fa. Io ho iniziato stabile in negozio nel 2011 e devo dire che sì, nel giro di tredici anni o poco meno è cambiato molto, non dico totalmente perché non è così, ma molto è cambiato e questo diciamo è anche uno stimolo per noi perché se vedo noi di dieci anni fa non siamo quelli di oggi e quindi questo ci stimola a crescere, a crescere dal punto di vista del servizio che diamo, la nostra formazione, i prodotti che offriamo ai nostri clienti, quindi diciamo che nonostante ci siano dei lati negativi, che è il mercato competitivo, il prezzo al ribasso, tutto quello che si può dire, da un lato diciamo ci aiuta anche a crescere e non a rimanere nel nostro comfort zone e tirare avanti insomma. Certo, no dicevo che un aspetto molto molto interessante secondo me che è utile raccontare è che voi a un certo punto avete fatto una scelta, e siete stati tu e tuo fratello in particolare a farlo, di non trattare più prodotti anche semplici, molto comunicati, di grosse aziende e invece di fare delle scelte molto più di nicchia, molto più ricercate, puntando proprio sull'esclusività, sull'unicità del vostro territorio ovviamente, di trattare determinati prodotti rispetto ad altri e quindi vorrei che tu ci raccontassi, mi raccontassi il perché della scelta e di com'è la scelta anche dei brand, cioè la ricerca che voi fate. Allora diciamo che tutto è nato dalla nostra esperienza, nel senso che nella nostra piccola esperienza da quando abbiamo iniziato a essere io e mio fratello stabili in negozio abbiamo visto che offrire ai nostri clienti un determinato tipo di prodotto per noi non era conveniente, perché alla fine diciamo quello che noi proponiamo ai nostri clienti diciamo siamo noi che mettiamo tra virgolette la faccia su quello che vendiamo, quindi la scelta del prodotto per noi è molto importante. Poi abbiamo fatto delle scelte commerciali legate al discorso distribuzione, nel senso che non possiamo avere tutti le stesse cose, quindi in base al nostro territorio e alla nostra zona ci siamo guardati intorno, abbiamo iniziato a fare un po' di ricerca, a girare un po' le fiere, le fiere internazionali e a diciamo anche a man mano imparare, perché logicamente non si nasce imparati, quindi bisogna man mano fare delle esperienze, capire determinate cose, sapere conoscere bene i materiali, sapere conoscere bene le dinamiche di mercato, quindi abbiamo preso le nostre scottature, come è normale che sia, e quindi noi lavoriamo su prodotti di qualità, non necessariamente di lusso, quindi spaziamo dal lusso a cose diciamo con un prezzo più entry level, ma l'unico comune denominatore deve essere la qualità del prodotto, l'assistenza e anche diciamo la costruzione che deve alla fine, oltre a un discorso di immagine, deve essere un occhiale che risolve il problema visivo, quindi deve essere comodo, deve calzare bene e deve avere tutte queste caratteristiche che per noi sono importanti. E senti, voi che avete una clientela di lunga data, no? Anche perché appunto, essendo il primo il papà poi il nonno, immagino che voi siate per molti un punto di rilodico di famiglia. Sì, sì, assolutamente. Ecco, come viene colta questa cosa? Viene capito il valore della ricerca di un prodotto anche un po' fuori da quelli comunicati e che trovi ovunque? Devo dire di sì, perché è così e per questo motivo insomma siamo contenti della scelta che abbiamo fatto e proseguiamo nel nostro percorso, perché se non fosse così diciamo cambieremo strada, invece proseguiamo sulla strada che abbiamo iniziato e logico che c'è chi sa capire queste scelte e chi meno, chi gli interessa o meno, questo ti apre delle porte e te ne chiude delle altre. Quindi non è un discorso di nicchia o non nicchia, penso sia riduttivo definire prodotti diciamo no brand di nicchia, perché in realtà siamo noi ottici che vendiamo e quindi siamo noi che diamo spazio, diamo luce, diamo vetrina alle aziende. Quindi se certe aziende sono arrivate dove sono, in parte, piccola parte, è dovuto anche a noi ottici. Quindi io dico che noi in negozio proponiamo quello che ci piace vendere, che ci piace proporre, con le aziende con cui abbiamo un feeling e sono nostri partner a tutti gli effetti insomma. Molto interessante questo bel messaggio e soprattutto conferma il fatto che poi alla fine il cliente dell'ottico si lascia guidare dall'ottico, nella scelta dell'occhiale, perché tu puoi entrare anche con delle idee ben chiare, magari perché hai visto un occhiale, una forma che ti piace, però poi alla fine devi fare i conti con come l'occhiale ti sta addosso, come te lo senti, come ti viene raccontato. Mi viene da sorridere perché a volte ho clienti che entrano e mi riguardano vorrei un occhiale colorato, grande, fatto così, 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 esce con un altro occhiale. Perché sono io che li voglio, è semplicemente perché casomai per la gradazione che ha, per l'appoggio che deve avere sul suo naso, non è un occhiale adatto e quindi si va su un'altra cosa. Certo. E questo per fortuna che è così, perché penso che la consulenza che noi diamo è fondamentale, fondamentale sia per il cliente, ma anche per l'esistenza del nostro lavoro. Perché se non ci fosse il lato consulenza, se non dico che farai un altro mestiere, ma... No, è vero. Però... Hai perfettamente ragione. Non vedrei un futuro. Io in questo lavoro vedo un futuro perché penso che ci sia sempre più bisogno del lato umano, che il lato umano significa non solo gentilezza, cortesia nell'accoglienza del cliente, ma anche l'attenzione di saper consigliare nel modo giusto l'occhiale giusto, insomma l'equipaggiamento giusto per la persona che necessita di un occhiale. E anche l'ascolto, perché è una parte importante. Molte volte quello che manca in tante cose è quello, non solo nel nostro lavoro, ma anche in tante altre cose, manca l'ascolto e quindi a volte non si realizzano delle cose fatte bene perché non si è ascoltato. Ultime due domande. La prima cosa... La prima delle due è... So che voi avete anche una vostra linea di occhiali, no? Questa è una domanda che faccio perché mi incuriosisce vedere se è una tendenza. Devo dire che c'è molta tendenza. Ci sono molti quei colleghi che alla fine si cimentano di disegnare una propria linea. So che lo fate, che esce come ottica Casoni. Chi disegna, che esperienza è e perché? Allora diciamo che il nostro nasce diciamo come proporre un occhiale con uno stile iconico, quindi semplice, non inventiamo niente, non disegniamo niente di particolare. Andiamo a riprendere forme iconiche e le proponiamo sotto la nostra chiave, colori classici, per dare un prodotto basico che non è, nel senso un prodotto fatto bene e che noi abbiamo un controllo perché lo andiamo a fare dove andiamo a prenderlo in fabbrica fondamentalmente. Quindi sappiamo da dove esce, come esce, che materiali utilizzano e quindi abbiamo un controllo diciamo totale sul prodotto. E questo ci diciamo ci aiuta nella nostra fascia diciamo entry level in cui riusciamo a dare un prodotto diciamo a un prezzo, un ottimo rapporto qualità prezzo insomma. Benissimo. E seconda e ultima domanda. Tu mi hai raccontato, perché io non l'ho ancora visto ma vero a trovarti, che il vostro negozio si nota. Vorrei capire in che cosa. Raccontami perché. Tu mi dici, ci si passa, ti rendi conto che è qualcosa di diverso. Diciamo che, prima cosa, sono le persone stesse che mi dicono questo, nel senso, entro e mi dicono, ma avete appena aperto un negozio nuovo? Guardi c'è da 1933. Ah, ma avete cambiato qualche tema di gestione? No, abbiamo semplicemente cambiato un po' il design del negozio, ma comunque l'immagine, l'identità del negozio. Logicamente quando abbiamo deciso di cambiare l'offerta delle montature, abbiamo pensato, il mio fratello, di dire, ma dobbiamo creare un contenitore anche adatto al prodotto che noi andiamo a inserire. Quindi a renderlo un po' diverso da quello che c'è, diciamo, nel panorama, nel mercato, vicino a noi. E quindi abbiamo deciso, visto che siamo in un contesto storico, il nostro negozio in centro, vicino all'academia militare, ex palazzo Ducale, siamo all'interno di un palazzo che era l'ambasciata francese, quindi molto storico. Abbiamo praticamente tirato via tutti i cartongessi che c'erano, quindi tutto ciò che andava a ricoprire le pareti e abbiamo lasciato, insomma, le mura come erano, mura e contro soffitto. Colpisce molto, lascia molto, diciamo, con gli occhi all'insù, nel senso che tutti guardano il nostro soffitto, perché è una cosa particolare, insomma. Bene, bravissimi. In gamba, come si chiama tuo fratello? Emanuele. Bene, allora, in gambissimi Alessandro Emanuele, in gamba il papà, perché se sono in gamba loro evidentemente hanno lavorato molto bene. Chi vuole vedere il negozio basta che lega l'articolo su PO, perché, insomma, se ascoltate questa intervista vuol dire che è già uscita la loro intervista anche sulla rivista, quindi potete anche scaricarlo dal nostro sito. Io verrò a trovarvi di persona sicuramente. Buona te. Ti ringrazio molto di essere venuti da noi, di averci raggiunto a Milano qui a Casa Platform. È stato veramente molto piacevole e anche un piacere vedere queste nuove generazioni, con questo entusiasmo, proseguire un'attività familiare bene. C'è speranza, molta speranza. Bisogna. Grazie. Grazie mille. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie.